Ciao ragazzi e bentornati in Pintel, oggi parliamo di Team Music. Team Music è la piattaforma di musica digitale di Team che ti permette di ascoltare i brani streaming senza limiti di tempo e senza interruzioni pubblicitarie Team Music ha molti vantaggi uno su tutti se sei già cliente Team e usi Team Music non consumerai i giga della tua offerta se non sei cliente Team sai già cosa devi fare come sempre ci vediamo in negozio trovate i nostri indirizzi su www.pintel.com se invece vi è piaciuto questo video vi chiedo di cliccare sul mi piace ciao a tutti e alla prossima